buongiorno a tutti oggi siamo qua per parlare di nuovo delle proteine vi lascio anche il link per l'altro video che ho fatto sempre relativo alle proteine perché siamo qua a parlare ancora di proteine perché si ha sempre il timore di consumare proteine in eccesso ma spesso non ci si pone la domanda opposta ne sto mangiando troppo poche o magari se si mangiano proteine non di ottima qualità ad esempio indagando ho trovato alcuni sintomi da non sottovalutare e che indicano che le proteine che si assumono non sono sufficienti e che andrebbe quindi valutato insieme ad un professionista di alzarne eventualmente il dosaggio sempre ovviamente puntando alla freschezza e alla qualità quindi non intendo andare al supermercato a comprare tonno in lattina o carne in scatola mi pare ovvio giusto poi pure io mi mangio le scatolette di tonno ma nella quotidianità cerco di puntare alla qualità cercando di coniugarla anche con il portafoglio iniziamo quindi innanzitutto uno dei sintomi di carenza da proteine è difficoltà a perdere peso e accumulo di grassi sulla pancia hai sempre fame e non riesci a saziarti con voglia di dolci costante soprattutto di cioccolata e soprattutto la sera affaticamento e stanchezza oltre a cambiamenti di umore e difficoltà di concentrazione ti ammali facilmente dolori o fastidio alle articolazioni perdita di massa muscolare fratture da stress alterazioni della pelle capelli e unghie fragili edemi con gonfiori diffusi soprattutto agli arti inferiori all'inizio per poi diffondersi anche al resto del corpo ovviamente come sempre le cause possono essere anche altre e i sintomi possono variare in intensità in base al grado della carenza proteica oppure ci possono essere magari una congiunzione di cause che portano a tutti questi sintomi di cui vi ho parlato per qualsiasi domanda sono qui puoi scrivermi nei commenti sotto oltre a mettere un like e se non l'hai già fatto iscriverti al mio canale per rimanere sempre aggiornato